ciao a tutti ci troviamo nel campo geotermico di sasso pisano nella toscana meridionale e questa qui è un bullicane un'acqua gorgogliante che produce vapore ac e altri gas ed è prodotto dall'attività geotermica all'interno della terra che fa rialzare aumentare la temperatura in uno strato permeabile di rocce quindi fa fuoriuscire calori e gas questi gas ne troviamo alcuni che sono degli acidi solforici o dei solfoderivati ebbene questi solfoderivati sono il nutrimento quindi gli acettori finali di ozolfo per alcuna classe di batteri chiamati solfobatteri i solfobatteri possono essere sessili e autofili e sono degli extremofili ovvero vivono in condizioni dove le temperature medie possono oscillare tra i 60 e i 100 gradi microbiologia italia